Musica Prima di questa fotografia era un direttore di art che ha deciso di trasformare perché voleva essere un uomo a fare le foto, invece di un uomo a prendere le foto e mettere le foto Questa è la prima immagine di Arkane, prima di fare questa foto lui ha avuto una carriera come art director, come direttore artistico e ha voluto a un certo punto fare il salto da essere quello che dirige, che organizza l'impaginazione, la scelta dell'immagine, quello che veramente crea l'immagine Quindi, lui sapeva che l'esquire magazine stava a planare un problema speciale su jazz e voleva tirare questo problema e quindi veniva con una grande idea di chiamare per tutti i jazz per arrivare a una certa locazione e per un portretto di gruppo Quindi lui sapeva che la rivista Esquire aveva un progetto di fare qualcosa sul jazz e allora ha avuto l'idea di cercare di chiamare tutte le persone coinvolte con il jazz a New York in un unico posto per fare un'immagine che li riempitrisse tutti Esquire ha concordato, ok Arkane, hai l'assignamento quindi hanno iniziato il processo di chiamare tutti i musicisti e gli agenti e le persone nel business jazz è di mettere la parola che questo fotografo sarebbe stato preso a 10 o'clock a un mattino di settembre, nel summer, nel 1958 Quindi Esquire ha consentito all'idea di fare un'immagine, di creare questa immagine quindi cominciò il giro di chiamare agenti, chiamare musicisti di dire a tutti e di farsi trovare alle 10 del mattino in una domenica dell'estate del 1958 Così fu e poi arrivano e aspettavano al mattino e pensavano se qualcuno potrebbe arrivare e non avevano idea, magari 10 persone, magari 20 e poi 58 dei migliori musicisti di chiamare dei giorni e tutti stavano pensando, wow, ora cosa facciamo? e ora mio padre li ha diretti a fare una formazione sulle stagioni e poi i figli sono arrivati e i figli sono arrivati e iniziarono a chiamare e il direttore dell'artista diceva e lui mi ha detto e mio padre diceva no, no, i figli restano e noi amiamo i figli e poi Count Basie sottò con i figli e... storia e quindi sono arrivati al mattino pensando chissà chi arriverà chissà in quanti forse 10 forse 15 alla fine arrivarono 58 dei più grandi musicisti di tutti i tempi dell'epoca del jazz e allora Arkane dovette distribuirli in questo modo sulla scalinata lungo il marciapiede e poi a vedere tutti questi personaggi hanno cominciato a intervenire tanti bambini che giravano per le strade e il direttore artistico cominciò a dire via, via questi bambini che non li vogliamo nell'immagine e invece Arkane ha detto no, no, invece li vogliamo li mettiamo a sedere qua sul marciapiede e alla fine anche Count Basie il signore qua sulla destra si mise a sedere di fianco ai ragazzini e quindi ho trovato questa impostazione e Arkane ha fatto un unico scatto e così si fece la storia grazie grazie grazie